Oggi passerò 24 ore a stoppare il mio amico Vallex in qualsiasi situazione Vi dicevo che stop Start Le regole sono semplici Io ho questo telecomando e quando premerò stop lui si dovrà fermare Domani mattina è il giorno Io mi sveglierò alle 2 No no, non vale Devi svegliarti almeno alle 9 Che inizia la challenge Che challenge inizia? 24 ore posso comandarti con un telecomando e stopparti quando voglio Bello Bella challenge, che interessante Dovrà stare immobile Ce l'ho capito, non sono pronto Non sei pronto? No Li farò fare tantissime bellissime figure Non mi fido, però va bene Guardate cosa ho qua e guardate cosa c'è lì Iniziano ufficialmente le 24 ore Tutto il giorno, devi stare attento Io posso stare con te tutto il giorno Devo fare con l'azione Anche in bagno Posso quando non posso Stop E ora Ma posso stare anche zitto? Cosa sfido? No, zitto puoi parlare È divertente Dai Ristoppato qui State attenti perché una di queste cose lui non l'ha superata Perché non è stato bravo No, non ce la faceva, era troppo Era troppo esagerata Escevamo forse addirittura di morire Eh beh no, potrebbe succedere di tutto in quel momento Ok Stop Capite voi quale commentando Quindi questo video sarà anche un routine morning di Vallex Stop Non si capisce tanto quando parli Come parlare Stop Vabbè I colori tuoi Cioè poi pulisci te Stop Vabbè Divinare il pianto Io non pulisco il cielo Cioè per la stessa roba Mi pensiamo di riprendere Consiglio anche voi di provare con il vostro amico Alla fine non è riuscito neanche a fare colazione Sì è vero Tra l'altro ci stavo pensando prima che non ho fatto colazione Mi hai fatto fare di tutto quanto e poi non ce l'ho fatta No Stop Stop Oh Dai io vado Vabbè oh I bianchi di dentro Bianchi i denti Sì poi l'ho vestito Stop Così come fa Non volevo farti affogare scusa A dopo Fai la doccia Fai la doccia Ciao Ragazzi dovete sapere che la doccia in questo momento è solo fredda Quindi lo stopperemo Mentre si farà la doccia E morirà di freddo probabilmente Ho sentito che era appena accesa Com'è? Eh Non viene calda Non viene calda? No Stop La mano è gelata Così A parte che non posso fare la doccia Non è riuscito neanche benissimo a lavarsi Cioè non sei riuscito a fare niente No Cioè ieri Devo fare mille cose Le solite cose che faccio ogni mattina Ma niente Ti stavi diversendo Stop Ma aveva già rotto Cioè ragazzi Qua non può parlare così tanto Andiamo avanti Siamo usciti E qua c'è il telecomando Se io voglio posso Stop Start A posto Stop Non t'ho detto start io Non t'ho detto Ma non t'ho detto start Voi avreste avuto vergogna in questa occasione? Allora Ma te non hai rispettato la challenge Un bonus A me ma Vabbè solo perché ha suonato il claxon Te la do buona Ma me lo dava lei Lo stavolato lei lo start Lo start Cioè mi facevi stare lì un bot Mi terava giù Come avete capito Questo telecomando può fare di tutto Tu farò una cosa Può stopparmi Non è che vuoi fare di tutto No Basta Ah ragazzi Può parlare Ora direzione metro Non volevo andare dal Non sai cosa dobbiamo fare adesso No niente Il metro no Il metro non si fa niente Come Guarda Ma poi pazzo Sempre pazzo Con questo telecomando Tu rimani qua bro Finita Non va bene Per sempre il meglio Non è divertente Allora ragazzi Gli ho detto di scendere alla prossima Perché sono bravo Però Ci è rimasto malissimo Mi piace questa giornata Spero che non accada al contrario Di non farlo mai verso di me Perché Già sulle strisce avrei Molta vergogna Vabbè lasciate like Se volete vedere il contrario Scherzo tuo Mezz'ora Mezz'ora per recuperarci Abbiamo fatto fare una fermata di metro in più Cos'hai da dire Mi hai detto che lo facciamo bene Di schiena Con lo sponsor Troviamo lo sponsor Ma se siete in pigiama Ti vesti in solito No Mi hai detto di andare sotto Adesso andiamo a comprare Tra l'altro Ho comprato una cosa Che poi Verrà usata nel video Mi serve l'olio Mi serve l'olio Un altro olio Ti serve l'olio Sì mi serve l'olio Ma io non serve Ma io non serve Ma io non serve Ma comunque me lo fa ridere Questo olio Dai Oh penso si cade veramente Questo olio Penso si cade veramente È olio Sì capito Ma non è olio Questo olio Mi credo faccia bene questa cosa Vabbè io posso muoverle Posso posare tutto in tempo Non ti agghi z Inizio a dire Stop qua E tu sei lì così Bene Possiamo anche C'è una cosa nell'orecchio No non dire Ma non me ne frega niente Perché voglio vedere Se cade tutto Ma non cade niente Se cade tutto È il manco immobile anche Così impari Pulisci anche tutto No 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 andrei Vai Dai start vai Puoi muoverti Come la posa la roba Vieni aiutare te Per pagare ho usato lo stop Perché almeno Le ho preso il portafoglio E ho sbloccato Questo nuovo metodo di pagamento Che è divertente Hai scelto? No hai scelto tu questo Io ho scelto questo Perché serve Però sai come pago oggi? Stop No Non vale Non vale Non vale niente Non c'ho niente Dov'è andato Dov'è andato? Per i suoi soldi Dov'è andato? Ale Cosa c'hai un sacchetto? No No Non provvedere Sui dati del conto Ma così Vabbè questo è mio E vado a pagare Ciao Ragazzi Vorrei che fosse tutti i giorni così Che faccio la spesa Gratis Questo tè Voi non Non avete capito A cosa serve ancora Adesso lo vedrete Appena riesco a farglielo bene Avete già capito Forse O forse no Guardate Mi hai fatto togliere la felpa Per un motivo No Che motivo Tu devi bere Non lo so Ti mi puzza Tu vuoi che beva Tu vuoi proprio che io beva Ti devo dare soddisfazione Bevi Ma se mi fai bere Vai bevi Stop Oh non puoi Non puoi Oh no 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 Giorno in tre Questo è che ballo in siaga Sei contento? Ok È avuto la soddisfazione È quasi finita la giornata 24 ore No non mi frega niente Ragazzi la giornata è finita Ho fatto la doccia Perché si era Distrutto Si ero lavato Lasciate like Iscriviti Attiva la campanella Se vuoi vedere La puntata al contrario Oh no Bello Oppure un'altra challenge Però dove questa volta Subirò io Le cose da fare Lo fate sapere nei commenti Completo No 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 No